Antonella Clerici è una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver esordito negli anni 80 in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando il Rai e conducendo negli anni 90 diversi programmi sportivi. La conduttrice è una persona piuttosto riservata. Ma non manca di aggiornare i suoi fan anche riguardo ad alcuni aspetti della sua vita privata ricordiamo un post in cui la vediamo meravigliata e felice di fronte a un bellissimo albero di Natale. Proprio presso una trasmissione, ok salute e benessere, ha confessato di aver vissuto un momento davvero terrificante nel corso della sua vita. L'episodio risale al 2012. Accadde tutto. Come già accennato, nel 2012, Antonella fu trasportata di urgenza al pronto soccorso o rischiato la vita per uno shock anafilattico, ha spiegato, avevo preso un antibiotico di nuova generazione. Mi sono sentita soffocare e mi è venuto un prurito terribile all'orecchio sinistro. Come se ci fosse dentro una bestia, mi si è gonfiato il viso. Il racconto è davvero da brividi. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio grazie alla tenacia di clerici e alla prontezza dei medici, che sono intervenuti subito con il cortisone per evitare il protrarsi della reazione da shock anafilattico, pensavo che non sarei morta. Perché era stupido morire, ha rivelato ancora la conduttrice, anche nei pensieri sempre costante nella sua filosofia di vita positiva.